Allora, signori, facciamo un conto alla rovescia! E' bastato di inserirla dentro! Allora, chiudi gli occhi! Allora, a me è riuscita bene, però io ti ringrazio di aver aperto il rigozzo e queste ruote per le due immaginazioni. Allora, prego, signori, chiudi qua! Grazie a Mario! Grazie a tutti! Ehi, lo sai che hai inaugurato il nuovo Disney Store? Eh? Guarda, la tua store! Grazie a tutti! 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 Sì, io per un'altra volta, cioè, quello di prima era mi uscita. E' zianco. E' zianco.